Salve carissimi amici tutubi, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla in questo che è il video lettore acquisti del corso del mese di maggio 2024 un mese... lo dico sempre che è un mese strano quindi direi che è un mese normale anzi in questo caso un mese negativo che cosa ho letto, che cosa ho acquistato? scopriamolo insieme nel corso del video per l'appunto nella barra del tempo potete saltare i vari capitoli per vedere magari che cosa ho letto, che cosa ho acquistato magari di una singola casa editrice ho cercato di dividere le clip che ho registrato per acquisti e letture e letture acquisti nel caso in cui li ho letti subito dopo averli acquistati ma per l'appunto non perdiamoci troppo in chiacchiere e dopo la sigla vediamo che cosa ho letto, cosa ho acquistato nel corso di maggio 2024 per Disney ho acquistato e letto la storia vista da Topolino miniserie integrale scritta da Giorgio Pezzin per i disegni di Paolo Motture e Marco Palazzi che ha curato due episodi su nove volume da 300 pagine indicativamente al prezzo di 27 euro tutta quanta questa miniserie raccolta miniserie nella quale Giorgio Pezzin di Storia in Storia analizzava un periodo storico con le sue invenzioni, i suoi punti di forza in un racconto storico abbastanza dettagliato e interessante una mini quindi dedicata agli amanti della storia molto molto carina, molto molto godibile con protagonisti i nostri personaggi topi principalmente topi, anzi esclusivamente topi ho anche acquistato e letto il secondo numero di Paper Mitologia questa volta con una storia inedita davvero nel senso che la prima storia presentata all'interno del volume ad oggi non è ancora uscita sul topolino nonostante siano già uscite 4 storie di questo ciclo sul topolino questo secondo numero secondo me mantiene molto quello che era l'andamento del primo numero due storie di questo nuovo ciclo che vuole andare a riraccontare alcuni dei miti greci più importanti, più noti, più celebri con i personaggi paperi come protagonisti più una serie di storie più o meno datate che andavano ad investigare qualche elemento legato alla mitologia greca miniserie di 5 numeri come abbiamo detto di questo volume se non è già uscito uscirà a breve un video dedicato visto che ho intenzione come ho già detto in passato di farvi un'analisi di tutti quanti i numeri di questa collana mensilmente quando usciranno quindi in realtà bimestralmente visto che li avevo già in casa da un pochettino di tempo ho finalmente deciso di recuperare la lettura dei tre vecchi spillati dedicati ad Atlantis questo perché nel mondo di Lorcan a gioco di carte collezionabili per l'appunto con i personaggi Disney c'erano i personaggi di Atlantis e non ricordandomi poi troppo del film perché non è che l'avessi particolarmente amato ho deciso quindi di per l'appunto finalmente ridarci un'occhiata il numero uno di questa collana qua di spillati con solo autori italiani vuole andarci a raccontare un po' il prologo quindi come i nostri protagonisti siano entrati in possesso del diario del pastore il secondo numero della serie a spillati contiene da un lato l'adattamento a fumetto del film quindi con Milo e tutta l'avventura che farà nella ricerca di Atlantide più una storia secondaria legata al mondo di Atlantide ma in Italia è uscito anche un terzo spillato con anche qui solo autori italiani che però in questo caso si focalizza sul futuro su il seguito del film con Milo alle prese con gli Atlantidei alcuni loro usi e costumi si è trattata quindi di una miniserie molto legata al film di Atlantis come ovviamente si lascia intuire che però ho letto abbastanza con gusto non un must have, non un must read ma se vi è piaciuto il film di Atlantis questo può essere un bel modo per scoprirne un po' gli antefatti e anche un ipotetico sequel visto che in realtà non l'ho ancora fatto lo guarderò prima o poi esiste un film sequel ma non credo che si sia appoggiato a questo spillato quindi avete anche un sequel alternativo di Atlantis nel caso in cui foste interessati altri volumi Disney che ho letto il sesto volume dedicato alla Thriller Collection dedicata per l'appunto a Casti con altre storie legate a Macchia Nera le ultime storie di Casti dedicate a Macchia Nera prima di Dark and Blood fondamentalmente in cui ci dimostra Casti quanto Macchia Nera può essere un avversario più che temibile per Topolino e per tutta quanta Topolini grazie alle sue invenzioni più che geniali ho letto anche Grandi Classici Disney numero 101 ho voluto dare un'occasione a questo rilancio a questo rebranding dei Grandi Classici iniziato nel numero 100 e proseguito con il numero 101 bella l'idea di avere sempre una selezione di storie con autori più o meno importanti all'inizio dopodiché andare alla ricerca di alcune chicche molto particolari prima della sezione Superstar con un tema ben delineato in questo caso la storia più particolare di tutto è Topolino nella Valle dell'Incanto storia che ha avuto qualche ristampa nel corso del tempo ma è una storia molto inusuale di Guido Martina ma molto molto particolare con un viaggio molto molto strano storia che però si va a rifare veramente tanto ai classici di Godferson ma anche di Barks considerando la presenza di Paperino e di Paperone con tante discrepanze rispetto a quelli che sono diciamo l'immaginario che abbiamo di Paperone normalmente sono un pochettino indeciso sul da farsi nel senso che la chicca del numero mi è piaciuto leggerla in quanto curiosità ok? quindi è qualcosa che mi spinge a dire ok, carina l'idea mi piace avere queste chicche per quanto non mi abbiano finora fatto impazzire né nel numero antecedente né in questo la sezione Superstar dedicata al tempo in maniera completamente generale senza un criterio non l'ho capita c'è la sezione Superstar che è metà del volume che dovrebbe essere su un tema ma in questo caso non ho capito il tema quindi boh, magari sono patacca io però non ho capito di che cosa voleva parlare Pierluigi Gaspa dare un'occhiata anche al numero 102 dare un'occhiata anche al numero 102 voglio dargli qualche numero di rodaggio per capire se questo nuovo impostazione mi può piacere o meno per poter capire forse meglio questa impostazione se dovessi limitarmi sul 101 vi direi che non proseguirei la lettura e l'acquisto da notare anche che c'è il logo dei 30 anni di Panini che scompare completamente dal fondo perché turchese col logo azzurro non si legge Panini fate qualcosa per questi per questi loghi perché davvero non si leggono sui volumi ho visto veramente tanti volumi dove non si legge c'è ma non si legge doppio recupero della collana Topolino Extra graphic novel in entrambi i casi per due volumi che vi avrei detto che non avrei acquistato ma poi visto che sarei andato al Cortona Comics ed essendoci tra gli ospiti Francesco Di Polito e volendo avere qualche disegno da parte sua ho recuperato anche Ritorno a Dactopia e Fuga della Dactopia concludendo quindi il ciclo per l'appunto trilogia di Dactopia 15 euro e 50 il secondo volume che è bello spesso c'è davvero tante pagine 14 euro e 50 il terzo che è un filino più sottile li ho acquistati principalmente per Francesco Di Polito non c'era la fiera ma diciamo che col punto avevo già acquistato il 2 mi sono voluto acchiappare anche il terzo così da averli tutti quanti complice anche in realtà il fatto che la nuova storia uscita poco dopo con Gamba di Legno protagonista di Francesco Artibani disegnata da Lorenzo Pastrovicchio mi era piaciuta e se dovesse finire sempre nella stessa veste editoriale non mi dispiacerebbe avere a questo punto il ciclo completo perché sì Dactopia 2 e 3 mi avevano convinto molto meno di Dactopia 1 ma non le avevo schifate del tutto erano comunque state storie che in un qualche modo mi erano piaciucchiate non mi avevano entusiasmato particolarmente ma mi erano piaciucchiate la nuova storia di Francesco Artibani Pastrovicchio mi era piaciuta tanto quindi se dovessero fare un volume sul topolino extra non lo so di prima chito non ce lo vedo però nel dubbio ho voluto togliermi il dubbio e nel caso se avevo l'opportunità di incontrare Francesco Di Polito uno schiacciettino a volume non mi sarebbe dispiaciuto affatto così non è andata poco male per la collana i classici della letteratura che sta uscendo in edicola per giunti credo non so bene qual editore ho acquistato i numeri 16 e 17 viaggio nella luna e orgoglio e pregiudizio queste opere sicuramente ce li ho nei limited deluxe ma voi sapete che la mia opinione dei limited deluxe è che siano un po poverelli di extra di approfondimenti queste invece ce li hanno questi hanno davvero tanti extra tante pagine di approfondimento non ho ancora avuto modo e tempo di leggerli questi volumi in particolare in realtà vi segnalo che in viaggio nella luna che a questo punto avrei mi sarebbe piaciuto avere anche il suo seguito non c'è poco male hanno deciso di inserire Zebo Perone il giro del mondo in 80 secondi di Marco Nucci la storia una delle prime anzi la prima storia di Marco Nucci e niente è carino quindi come volume quasi ve lo consiglierei il volume invece di Orgoglio e Pregiudizio è un pochettino più spesso rispetto a Viaggio nella Luna e contiene credo solo a vedere un attimo sfogliandolo velocemente tutta la storia dei coniugi turconi per l'appunto Orgoglio e Pregiudizio anche qui ci sono molte reference ci sono diverse pagine di editoriali sulla falsa riga della vecchia collana della letteratura Disney in questo caso qui queste storie non sia questo che questa non essendo presenti nell'altra edizione ho scelto di recuperarli così da avere una collana visivamente più omogenea e tenerli tutti quanti assieme quindi la scelta è stata quella non le ho ancora letti però per DC Comics ho acquistato e letto Batman Redwood sotto il cappuccio uscito in formato deluxe per quelli di Panini questa mini serie ci va a proporre tutto quello che Giuduinic ha scritto sul personaggio di Cappuccio Rosso quindi a partire da per l'appunto la Mini sotto il cappuccio che prevede il suo ritorno in scena o meglio la sua prima apparizione in scena più tutto lo scontro con Batman tutto lo scontro ideologico anche con il Joker più la Mini i giorni perduti che racconta un po' l'antefatto ho fatto uscire un video dedicato a questo volume è bello massiccio parliamo di quasi 500 pagine a prezzo di 49 euro la Mini portante quindi sotto il cappuccio l'ho adorata tantissimo giorni perduti secondo me si può lasciare un pochettino perdere all'interno del volume c'è anche la primissima apparizione di cappuccio rosso all'interno di Batman Ash che viene inserita più per completismo e per completezza quindi un albo super mega iper completo se siete completisti può essere comunque un bel volume in un formato un po' più grande rispetto al comic book americano quindi comunque per i fan anche dei formati giganti ha il suo perché molto molto bello molto molto consigliato ho recuperato nell'usato Batman una morte in famiglia dopo aver letto cappuccio rosso e volevo recuperare questo volume avevo già letto una morte in famiglia la storia nella quale assistiamo alla morte per l'appunto di Robin ma questo volume qui in particolare l'ho preso perché non contiene solo una morte in famiglia ma contiene El Holy Place of Die che è di fatto l'introduzione di Tim Drake quindi è un volume bello grosso bello massiccio delle stesse dimensioni di sotto il cappuccio quindi l'ho voluto prendere anche per una uniformità grafica visto che si tratta di un formato deluxe che contiene per l'appunto una morte in famiglia ma non c'è scritto da nessuna parte o meglio leggendo qua quali sono i capitoli contenuti ci si arriva che ci sia anche l'esordio di Tim Drake ma non mi era così immediato quando è stato annunciato quindi l'avevo un attimino escluso avendo già letto una morte in famiglia quindi ne ho approfittato ho riletto queste due storie mi sono piaciute sono ancora piuttosto fresche nonostante siano storie degli anni 80 fine anni 80 sono ancora molto molto leggibili hanno una buonissima leggibilità e sono molto molto interessanti farò un video riguardo farò un video riguardo a questo volume e ve ne parlerò prossimamente per la collana di Sea Eventi ho avuto modo finalmente di leggere visto che è uscito il secondo numero Mondi in Guerra anche di questo uscirà un video decisamente più dettagliato di quanto non sia questa clip Mondi in Guerra è stato un evento degli anni 2000 principalmente riguardante Superman per quanto ci fossero tie-in su tutte quante le testate di Sea dell'epoca ed è stato un caos leggerla o meglio solo i capitoli di Superman più la selezione fatta da parte di non so bene chi per questi due volumi rende il volume abbastanza fruibile non c'è bisogno di troppo alto per capire che cosa sta succedendo certo al solito gli editoriali di introduzione non spiegano chi siano i personaggi non spiegano quali siano lo status quo di alcuni personaggi quindi rimane un po' confuso quando ti trovi davanti a un certo determinato personaggio capire chi sia banalmente nel volume 2 quando compare per la prima volta Wonder Woman e scopri che non è Diana però giustamente non te lo devono dire nell'editoriale iniziale te lo devono dire alla fine questa cosa non la concepisco cioè veramente faccio fatica a capire perché le informazioni che sono necessarie per comprendere la storia non vengano dette all'inizio della storia fai un'introduzione dove non spieghi niente non capisco proprio non capisco l'utilità delle introduzioni spesso d'ora in poi leggerò prima le post fazioni per sapere che cosa c'è all'interno di questi volumi per capire qual è lo status quo di alcuni personaggi prima dell'inizio di questa storia storia che vede una grossa minaccia arrivare sulla terra col rischio che vada a distruggere tutto e tutti superman messo sempre più alle strette ma man mano che la storia va avanti diventa di un confuso io vi giuro certi determinati frangenti della storia non li stavo capendo mentre li stavo leggendo io ho apprezzato tantissimo che alcuni autori avessero deciso di fare un riepilogo delle puntate antecedenti per avere ben chiaro che cosa stessi leggendo perché alcune cose di primo acchito non erano proprio comprensibili in particolare a un certo punto viene detto che c'è stata una grande esultanza per la vittoria di superman ma che poi si è trasformata in una sonora sconfitta e questa cosa a leggerla in presa diretta non la capisci non la puoi capire che superman stava vincendo non la puoi capire fatta malissimo come storia veramente difficile comprensione ma in questo caso non per mancanza di informazioni non per mancanza di capitoli come è successa per altre serie dove magari boh delle intere porzioni di trama erano state cancellate ma per una scrittura pessima della storia per me completamente inconcepibile per la DC in digitale ho letto il secondo volume del Batman di Zdarsky che è un viaggio psicopatico strano dove il nostro Batman è finito in una realtà alternativa e avrei scelto mille vie diverse per rappresentare questo mondo alternativo quello che succede non ha per me alcun senso per me Zdarsky sta sbagliando completamente quello che sta scrivendo su Batman e mi dispiace dirlo visto che Batman è il mio personaggio di si preferito e indubbiamente voglio continuare a leggere le avventure ma il Batman di Zdarsky secondo me sta andando in una direzione terrificante ho letto anche il Superman di Joshua Williamson il primo del rilancio per l'appunto New Dawn un volume che sa un po' di dove i vari capitoli sono un po' il caso del giorno in realtà c'è uno stato scompo che tieno particolare dato che Lex Luthor ha affidato a Superman le sue industrie tutto quello che c'è di suo l'ha affidato a Superman in modo tale che Superman possa utilizzarlo per combattere il crimine perché è fondamentalmente questa cosa mistero lasciavo il gusto di scoprirlo però il primo numero contiene letteralmente tre capitoli anzi due archi narrativi un pochettino più autoconclusivi sarà interessante vedere in realtà in che direzione si andrà a parare invece mi è piaciuto un pochettino di più il volume Adventure of John Kent un volume interamente dedicato al figlio di Superman ormai diventato adolescente che parte insieme ad altri Superman del multiverso per cercare di capire chi sia quel Superman che sta uccidendo altri Superman nel multiverso e nel cercare di fermarlo per alcuni motivi i nostri finiranno sulla terra di Injustice sì vi ho detto molte cose ma questo qui è proprio il prologo cioè proprio il nucleo narrativo dei primi due capitoli sui sei che compongono questa miniserie che ho trovato piuttosto interessante a livello ideologico il personaggio di John Kent funziona molto bene anche nell'incontro-scontro con i vari Superman che ci sono all'interno del multiverso infine ho letto anche il quarto volume del Nightwing di Tom Taylor volume che ho trovato un pochettino molto molto tranquillo dove il nostro Dick Grayson incontrerà il suo ultra fan fondamentalmente della quinta dimensione che si paliserà lui come mini-imp e col quale vivrà una mini-avventura è chiaro che buona parte del volume vuole mostrarci un po' le conseguenze della battaglia di Bloodhaven quindi del bisogno di proteggere in realtà i malviventi dall'ira della popolazione elemento che in realtà piuttosto interessante per poi sfociare in questa storia con fondamentalmente il fan di Nightwing e infine un finale che è molto molto solare molto molto positivo che vuole andare a celebrare il centesimo numero del rilancio di Nightwing avvenuto in seno all'operazione Rebirth finalmente siamo giunti al centesimo numero ma fondamentalmente ci vuole un po' lanciare ciò che succederà da lì in avanti vedremo è una serie quella di Nightwing che è molto carina da leggere si lascia leggere piuttosto bene ma è un po' di numeri che mi sembra un po' poco consistente si lascia leggere è carina come lettura d'appendice insieme ad altre ci sta ma pensarla come lettura principale faccio veramente tanta tanta fatica in particolare il diciannovesimo numero del flash di Jeremy Adams con la guerra di un minuto evento strano piuttosto particolare perché fondamentalmente arriva sulla terra una razza aliena che ha una forte connessione con la forza della velocità quindi loro vanno super mega iper veloci vogliono conquistare la terra spetterà tutti quanti i velocisti che andando al loro stesso livello di velocità riescono in un qualche modo a vedere cosa stia succedendo cercare di affrontarli e fermarli definitivamente buone le relazioni tra i tantissimi personaggi messi in scena c'è proprio una lunga digressione una lunga battaglia tra le parti mi è sembrata un po' riempitiva per quanto riguarda la gestione di Jeremy Adams ma le interazioni tra i personaggi sono buone e quindi lo più che apprezzata io invece ho acquistato e letto il terzo volume della Batman e Superman World Finance di Mark Waid Demora molto carino il primo capitolo con la prima uscita tra Robin e Supergirl successivamente una maxi battaglia anzi un giallo la storia inizia come un vero e proprio giallo è morto un personaggio Simon Flagg Batman sospetta essere stato metamorfo l'assassino e da lì si dilunga l'indagine anche qui Mark Waid fa un ottimo lavoro di caratterizzazione dei personaggi la storia magari non sarà super mega iper indimenticabile ma le dinamiche tra i personaggi sono molto fresche complici anche i disegni di Demora quindi una storia che ho saputo più che apprezzare ampiamente e quindi molto molto bene non vedo l'ora di leggere in realtà il prossimo volume di questi uscirà prossimamente un video dedicato credo un pochettino più avanti nel tempo ma cercherò di registrarlo as soon as possible il prima possibile visto che l'ho trovato ad un buon prezzo nel mercato dell'usato e visto che Panini ha annunciato il settimo volume che andrà a concludere perlomeno il primo ciclo ho recuperato Justice Society of America come potete vedere è anche bello incelofanato perché l'ho comprato da un collezionista che teniva i volumi veramente veramente bene ho comprato i primi sei volumi ovviamente non li ho letti neanche pensavo di acquistarli quindi figuriamoci se avevo in mente di leggerli la GSI di Geoff Jones mi sembra una lettura molto molto interessante ribadisco avendola trovata ad un prezzo buono l'ho voluto recuperare credo a un prezzo addirittura inferiore al 50% di copertina per i primi sei volumi quindi buono e ne ho voluto approfittare lo leggerò quando avrò modo e tempo e vi saprò dire che cosa ne penso in digitale ho acquistato ma non letto perché erano in sconto il sesto e conclusivo volume della serie antologica Batman Urban Legends che adesso posso finalmente leggere nella sua interezza anche se non so questa serie come la tratterò nel canale se la tratterò nel canale essendo tutta una serie di storie più o meno autoconclusive e il secondo numero di Dark Knight of Steel la storia di Tom Taylor ambientata in un mondo fantasy alternativo quindi un vero e proprio Elseworld nudo e crudo medievale giante che mi intrigava veramente tanto e che finalmente essendo uscito il secondo e conclusivo volume in sconto ho recuperato anche questo appena avrò modo di leggerlo ne parlerò per l'appunto sul canale per Marvel ho fatto un recupero nel mercato dell'usato in particolare volendo un giorno creare una libreria interamente dedicata ad un personaggio che mi piace molto che è Thor ho recuperato perché non l'avevo mai letti i primi tre e in realtà tutti e tre i numeri di Loki Journey into Mystery la serie che era uscita dopo rinascita credo dopo assedio perché il primo volume almeno uno di questi volumi è correlato a Fear Itself che dovrebbe raccontare la rinascita di Loki e le avventure di Loki si conclude qui tra l'altro anche la serie del Thor di Fraction quindi c'è un pochettino tutto questo materiale i volumi non mi sono arrivati benissimissimo è una cosa che ho segnalato anche al venditore vedremo come andrà a parare non ho speso moltissimo però mi erano stati garantiti i volumi tenuti bene e questi hanno qualche imperfezione abbastanza tangibile però nulla di troppo grave li terrò e li leggerò prima o poi ma non è questo il giorno per citare Aragorn fondamentalmente li ho acquistati perché costavano molto molto poco mi sono detto non mi le lascio fuggire a questo prezzo però non sono tra le priorità di lettura finiscono direttamente nella pila della vergogna che si sta ripopolando devo fare molta attenzione con la pila della vergogna per Planet Manga ho letto il numero 8 di Asadora prosegue l'avventura per l'appunto della nostra Asa con tutti i misteri che si porta dietro un altro volume che mi è piaciuto particolarmente lo sto apprezzando in realtà questa serie esce praticamente mai ma la sto apprezzando parecchio mi tiene davvero col fiato sospeso dalla prima all'ultima pagina nel corso della sua lettura ma ancora devo capire che cosa l'autore voglia davvero andare a raccontare e dove andrà a parare però per ora mi sta piacendo e nonostante una lettura fortemente aperiodica sto ancora tenendo abbastanza le fila ho poi recuperato ma non letto i numeri 6 e 7 di Yawara come avevo già avuto modo di dire in realtà su questa serie per quanto sia ancora più episodica mi sto un attimino perdendo sono tantissimi volumi sospendo la lettura ma non il recupero perché la serie mi sta piacendo mi stava generalmente piacendo la recupererò tutta quanta e poi la leggerò una volta conclusa magari qualche volume ogni tanto però la recupererò così in questa maniera quindi diciamo stop per il momento alla lettura di Yawara così come ho detto stop alla lettura di Claymore per leggerle quando saranno complete e potrò magari leggerle e darvi un giudizio complessivo finale per Star Comics ho acquistato e letto il secondo numero di Keito Kid di Gosho Aoyama nella sua Treasured Edition 6,50 euro il prezzo di copertina pagine a colori così come la volta antecedente vabbè la galleria a colori mi dice veramente molto molto poco allora il primo volume era particolare perché davvero andava ad introdurre tutti i personaggi tante situazioni particolari qui abbiamo tante ma veramente tante scene più o meno urbane più o meno ordinarie c'è questo capitolo qua molto carino con Keito Kid che viene seguito da questo robottino e lui si deve disfare di questo robottino sembra ancora più aperiodico rispetto al primo capitolo rispetto al primo volume non lo so me lo ricordavo meglio in realtà il secondo volume di Keito Kid ma a questo punto mi viene il dubbio che mi ricordassi il terzo la serie l'avevo già letta la sto recuperando in questo formato per averlo in un formato un pochettino migliore rispetto a quello antecedente considerando che poi hanno già annunciato che uscirà il quinto volume in questo formato quindi spero che vadano avanti qua man mano che usciranno i capitoli lo rileggerò piuttosto volontieri è un manga che si compone di capitoli completamente autoconclusivi senza bisogno di avere troppe relazioni tra vari capitoli quindi si lascia leggere piuttosto bene ho acquistato ma non letto in realtà perché tra una cosa e un'altra l'ho acquistato giovedì giovedì sera ma venerdì non avendo preso il treno non ho avuto il tempo di leggerlo il quarto numero di Area The Masterpiece i primi tre gli oretti mi sono piaciuti anche qui capitoli completamente autoconclusivi quindi non ho mai avuto grossi problemi con la lettura il terzo volume alla fine la mia copia era fallata Star mi ha mandato la copia corretta e niente leggerò il quarto volume il prima possibile ho già visto che a fine giugno uscirà il quinto non mi è chiaro quando usciranno gli ultimi due capisco che hanno avuto un fermo poi sono ripartiti quindi mi sto perdendo ogni quanto dovrebbero uscire però siamo ormai in direttura d'arrivo mancano gli ultimi tre volumi ho acquistato il diciottesimo numero di Claymore l'avevo già accennato e mi sono deciso a farlo fondamentalmente di mettere in pausa la lettura di questa serie aspettando di averla nella sua completezza questo perché sono volumi che si lasciano leggere davvero molto 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 in fretta e per quanto escano a cadenza mensile quindi anche abbastanza ravvicinata sto sentendo un po' il peso dell'attesa tra un capitolo e l'altro ed essendo archi narrativi anche piuttosto lunghi per quanto leggibili molto molto in fretta rischio di perdermi qualche dettaglio e ho paura di perdermi qualche dettaglio quindi metto in pausa il manga il diciottesimo numero su 27 e comincerò a rileggerlo probabilmente non dall'inizio quanto da il salto temporale dal time skip e una volta che si sarà conclusa la serie così che magari vi faccio un video e vi dico che cosa ne penso nell'interezza della serie di Claymore quindi non è un non lo leggo più è un lo metto in pausa a livello di lettura per star comics ma per l'etichetta astra il primo numero del sin city di frank miller il duro addio copertina variant rossa perché mi piaceva veramente tanto l'effetto rosso di questa copertina e sin city fondamentalmente un pulp una storia di vendetta ci troviamo a leggere qui in queste pagine in una città super mega iper violenta tutto dedicato al peccato alla corruzione e quant'altro uno stile quello di frank miller minimale che lavora più per sottrazione che peraltro davvero un'ottima lettura veramente al cardiopalma molto intensa molto cruda molto cupa ma estremamente apotropaica in una qualche maniera avevo visto i film usciti anni e anni fa adesso che astra ci ripropone questi volumi fondamentalmente recupererò la serie man mano di questo primo volume sono piuttosto contento è già uscito un video a riguardo dove ne parlo un pochettino più nel dettaglio nel caso in cui vogliate andare a scoprirne che cosa ne penso più nel dettaglio per Goen ho recuperato i sette numeri di Drifting Net Caffè serie di Shuzo Shimi per l'appunto uscita in Italia per l'etichetta come per la casa editrice Goen di Shuzo Shimi mi intrigava molto tracce di sangue ma visto che era la sua ultima opera ho voluto leggere anche le sue opere del passato e Drifting Net Caffè era la prima serie lunga visto e considerando che sono sette volumi avevo già avuto modo di leggere quando era uscito il primo numero visto che l'avevo acquistato e l'avevo letto per decidere se andare avanti o meno il primo numero sembrava abbastanza interessante abbiamo un personaggio principale questo qua il protagonista che è innamorato perso della ragazza che vediamo qui in copertina ragazza che ha perso di vista visto che era la sua compagna delle medie poi facendo le superiore all'università ha cambiato vita ha trovato una fidanzata si è sposato stanno per avere un bambino ma pensando a questa ragazza del passato per caso un giorno in un internet caffè se la ritrova proprio lì di fianco com'è come non è questo internet caffè ad un certo punto finisce in una dimensione alternativa dove l'istinto di sopravvivenza di alcuni dei personaggi degli avventori dell'internet caffè diventeranno qualcuno diventerà super mega iper mega brutale violento cattivo tutto quel che volete quindi con questo incipit mi aspettavo una serie molto introspettiva molto psicologica con una crescita anche del personaggio principale crescita che c'è solamente in parte anche perché se è nel primo numero tutto timido e remissivo già nel secondo volume diventa un po' l'alter ego del villain della storia a livello però di facciata a livello nominale perché a livello di azioni rimane è abbastanza scarsino sempre e comunque con una spiegazione del dove siamo finiti come siamo finiti del che cos'è questo mondo alternativo e quant'altro molto 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 basico nulla nulla di che mi viene a dire nulla di che diciamo che la prima opera di Shuzo Shimi non è che mi abbia fatto particolarmente impressione c'è anche da dire che è arrivato sull'onda del successo delle altre serie proposte da Planet Manga quindi mi viene da pensare che se anche Planet Manga non fosse stata interessata ad avere la prima opera di un autore che stava andando bene è perché non era forse così interessante punto di domanda e la risposta che mi sono dato è sì il motivo è questo però l'ho letta realizzerò un video un pochettino più dettagliato rispetto a questa clip uscirà non so bene quando fondamentalmente visto che su queste serie ormai già uscite sto già registrando diversi video che mi potranno essere utili qualora per l'appunto dovessi fare dei salti o dovessi avere dei problemi per il canale quindi diciamo che sono più riempiti di deluxe ecco fondamentalmente su serie già un pochettino vecchie un pochettino già uscite da un pochettino di tempo ci sono già un paio di video pronti però ecco diciamo che volendo rimanere più sul pezzo su quello che sto leggendo parlarvene il prima possibile su queste è un pochettino meno fretta quindi non uscirà breve ma uscirà un video dedicato proprio a Drifting Netcafe per Toonway ho preso il secondo volume di miti del Nord di Neil Gaiman per i disegni e lo stile quant'altro di Craig Russell che ha adattato il romanzo di Neil Gaiman il secondo volume si concentra su altri miti su altre storie più o meno note della mitologia nordica alcuni hanno come personaggi noti tra i protagonisti da cui ovviamente Toro Dino Loki altri hanno personaggi un po' meno noti e conosciuti e questo mi sta facendo però scoprire un po' la mitologia nordica e alcuni dei miti più o meno noti in particolare qui c'è anche un mito su come è nata la poesia che vede Odino come assoluto protagonista abbiamo poi un mito su Tor che è super mega forte e tutti quanti i giganti lo temano un mito su le mele dell'immortalità che danno l'immortalità a chiunque li mangi e quant'altro insomma diversi racconti ogni racconto ha il suo stile visivo peculiare avevo fatto uscire un video dedicato al primo volume di questa collana non farò uscire un secondo video visto che vi dovrei parlare un po' di questi nuovi miti mi sento di consigliarlo come lettura se siete incuriositi se vi piacciono e se vi piace in un qualche modo la mitologia nordica ma non avrei troppo da dirvi di questo secondo volume nello specifico forse farò un video quando uscirà il terzo volume dopo che sarà uscito il terzo volume riassumendovi un po' tutto quanto a quest'operazione ma mi sento già di dire che se vi piace o se vi piace la mitologia nordica o se non la conoscete questo può essere un modo carino per poter conoscere qualcosa o vederla in una maniera magari levemente diversa tramite il mondo del fumetto ad un'edizione comunque carina un po' più piccolo del formato comic book americano ma comunque di pregio e piuttosto interessante per Baw Publishing ho letto Le Guerre di Lucas volume interamente dedicato a George Lucas e a quella fase della sua vita nella quale ha realizzato il primo film di Star Wars episodio 4 una nuova speranza e devo ammettere che mi è piaciuto veramente tanto ho già fatto uscire un video dedicato molto bello graficamente questo volume molto interessante e coinvolgente per i fan di Star Wars è secondo me un must have per poter quindi avere anche l'idea di come sia nata questo importantissimo film ma anche per i cinefili risulta essere un'opera stra interessante o per chi voglia conoscere appieno e un pochettino più nel dettaglio alcuni dettagli della cultura pop del mondo pop visto che per l'appunto Star Wars fa parte proprio di quel mondo di quell'universo quindi c'è un pochettino per tutti i fan per tutti i possibili fan anche non di Star Wars nello specifico risulta un albo estremamente godibile è una biografia in parte romanzata ma che è molto fedele alla realtà tant'è che ci sono tutta una serie di documentazione nel finale è proprio presente tutto l'elenco delle opere dal quali i nostri autori hanno preso spunto per dirigere questa loro biografia quindi è molto molto documentata molto molto fedele alla realtà quindi molto molto interessante per BAU in digitale ho acquistato ma non ho letto Io sono il loro silenzio di Giorgi Lefevre autore anche di nonostante tutto opera che non mi era piaciuta particolarmente per il suo sviluppo il suo intreccio e per il suo finale ma non lo so la ragazza in copertina il fatto che ci siano persone che ne abbiano parlato bene mi ha fatto dire diamoci un'occhiata prendiamo questo volume a 2 euro e leggiamolo quando ne avrò un pochettino di tempo a pochettino di occasione vi segnalo che l'ho acquistato non l'ho letto però insomma ce l'ho nella mia libreria digitale su Kindle per 001 edizioni ho recuperato e letto tutta la serie delle Teenage Mutant Ninja Turtles o meglio in 6 volumi i capitoli principali dell'epopea delle tartarughe ninja scritta da Eastman e Laird anche Panista per riproporla in formato cartonato simile alla deluxe che sta proponendo per la serie EW e in realtà quella colonna lì conterrà credo 5-6 capitoli in più qui non presenti e che sarebbero stati a metà del terzo volume della 001 la serie comunque si lascia leggere piuttosto bene in ogni caso lo stile di disegno è un pochettino particolare molto underground molto sporco molto sproporzionato se vogliamo ma la serie mi è piaciuta contiene tantissime ingenuità ma veramente tantissime ingenuità ma è stata una bella avventura che spazia letteralmente nel mondo supereroistico a 360 gradi tra storie urbane storie fantascientifiche mondi strani personaggi che pensavo fossero stati inventati successivamente ma che compaiono fin dall'inizio tipo il fuggitoide che davvero non mi aspettavo fosse tra le prime cose che comparissero nelle serie delle turtle considerando che nel vecchio cartone animati non c'era o c'era molto molto poco o sono io che non me lo ricordo e niente è stata davvero una bella cavalcata una bella lettura molto allora molto pesante dal punto di vista di quello che succede di come succede e perché comunque succedono cose anche abbastanza truci pesanti gli autori tendono a non limitarsi troppo nel mostrare quello che succede quindi le tartarughe prendono e uccidono e uccidono male o ci sono personaggi che vengono uccisi male ma essenzialmente l'ho trovata molto una lettura di intrattenimento considerando anche che poi il finale nella parte finale ci sono cose che a livello temporale succedono troppo 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 in fretta per essere anche solo e logicamente accettabili comunque una bella lettura bella consiglio non lo so non lo so uscirà un video dedicato appena avrò modo di girarlo perché ho intenzione di farlo e magari ne parliamo un pochettino più nel dettaglio vi consiglio questa edizione o l'edizione panini bella domanda dipende quale trovate al prezzo migliore o se vi convince di più l'edizione cartonata di panini considerando che l'edizione panini avrà dei capitoli in più ma che non li ho letti quei capitoli in più facciamo questa premessa ma leggendo questi sei volumi io mi sento molto molto a posto non mi sento di aver perso dei pezzi nonostante guardando i sommari manchino tantissimi capitoli sintomo che c'erano davvero tanti tanti episodi filler tra l'altro a questo punto credo neanche scritti disegnati da Eastman e Leird visto che questa collana così come quella appena annunciata da panini contiene solo i loro capitoli dovrebbe contenere solo i loro capitoli nel caso in cui vi sto dicendo un'eresia correggetemi tranquillamente nello spazio commenti però dovrebbe essere così per editoriale Cosmo ho recuperato Altai e Johnson della coppia Sclavi e Cavazzano anche qui il volume l'ho acquistato praticamente alla fine del mese non ho avuto modo tempo di leggerlo essendo andato in fometria il giovedì e venerdì non avendo preso il treno fondamentalmente per andare al lavoro non ho trovato spazio e tempo di leggerlo lo recupererò sicuramente ad inizio del mese per Mirage Comics voi direte Mirage Comics non era quella delle cronache di Arda che non ti erano piaciute? ebbene sì ma ci sono ricascato ci sono ricascato perché alla fine dovrebbero essere tre volumi quindi ho voluto dare un'occhiata a questi cacciatori di Frodo dove abbiamo la versione di Aragorn Gimli e Legolas che faranno delle avventure sono curioso di vedere dove si andrà a parare visto e considerando che in realtà questo secondo volume mi ha convinto più del primo mi ha convinto più del primo ci sono cose meno ci sono meno robot ci sono cose un pochettino più fantasy c'è anche una storia tutta ambientata di notte molto molto particolare gli ho dato un'occhiata e mi è piaciuta magari leggerò il terzo volume quando uscirà il terzo volume rileggerò tutta quanta la serie e magari farò un video dedicato in cui vi parlo meglio di tutta quanta la trilogia e magari vi saprò dire qualcosa un pochettino più nel dettaglio ribadisco il primo volume non mi aveva convinto al 100% questo mi ha convinto un pochettino di più ho letto anche la loro nuova pubblicazione sono i casi meta-umani che vedete qui nella cover di rincione è un volume strano questo primo volume tra l'altro il volume contiene anche uno sketch fondamentalmente è un volume strano perché diciamo che parte come una storia più o meno supereroistica ambientata in un manicomio dove si curano praticamente persone che hanno forti disturbi fortissimi disturbi e tra i disturbi lo capiamo fin dalla copertina c'è l'anoressia solo che sembra che queste persone che hanno questi disturbi per qualche motivo hanno dei superpoteri e la prima parte della storia sembra essere una storia supereroistica per poi da un certo punto in avanti praticamente a metà abbiamo tre storie più autoconclusive su tre personaggi e ci parlano di questi disturbi particolare particolare molto toccante in realtà proprio il caso di Alina che è quella che vediamo in copertina quindi la storia sulla onoressia ma anche il disturbo bipolare credo che sia fondamentalmente quello di Richard che viene tutto entrammezzato così visto le sue molteplici personalità non lo so devo un attimo capirlo in realtà questa serie dove vuole andare a parare dare un'occhiata più che altro a come la proporranno e che cosa ci diranno sui social questo primo volume devo capirlo devo capirlo però per l'appunto magari ci vorrà un secondo volume per capirlo a 100% quindi aspettiamo e vediamo per Sergio Bonelli di Tore ho letto il diciannovesimo numero di Dragonero Mondo Scuro dal titolo L'Anello di Fuoco diciannovesimo numero comunque molto interessante sia visivamente che a livello di storia visto che vedremo i nostri viaggiare in direzione dell'Anello di Fuoco un'area fortemente legata a vulcani di ruzioni vulcaniche perché si è scoperto che la pietra lavica di questo territorio può far male agli abomini e quindi i nostri andranno a cercare di recuperarla in una vera propria avventura molto non posso dire fillerina molto avventura del giorno molto quest del giorno ma va bene così voglio che Dragonero sia anche missioni giornaliere apparentemente finire se stesse ma vedremo dove andranno a imparare ho invece acquistato il quarto canto della Divina Congrega l'Orlando innamorato finalmente scopriamo chi è il cavaliere misterioso che pensavamo fosse Orlando all'interno del terzo volume della serie invece abbiamo scoperto che non è così e l'abbiamo scoperto nel finale del terzo canto i nostri protagonisti dovranno risolvere il mistero e questo volume qui mi è piaciuto mi è piaciuto veramente tanto secondo me gli autori Gualtieri e Nucci hanno saputo veramente fare fare la differenza riprendere elementi e di tutta la mitologia di Orlando sia utilizzare piuttosto bene questo gruppo di protagonisti molto buoni anche i disegni di Cosentino e di Pace sia nelle parti legate ai flashback sia nelle parti del presente e molto buoni anche i colori di Valeria de Sanctis che riesce secondo me ad gestare molto bene i chiariscuri e le varie atmosfere presenti all'interno del volume vi faccio vedere una pagina un pochettino più di atmosfera secondo me molto bene realizzata uscirà un video dedicato a questo volume o è già uscito non lo so perché lo sto per registrare dopo aver registrato questa clip però non so quando uscirà effettivamente in programmazione se avete preso i primi tre numeri questo continua ad essere secondo me molto molto valido molto molto interessante anzi probabilmente qui hanno voluto alzare un pochettino l'asticella e settare non dico un nuovo standard ma indubbiamente la volontà di trattare tematiche anche un filino più delicate ma ben presenti ben congegnate ben pensate all'interno del mondo fondamentalmente medievaleggiante e di questi personaggi nello specifico molto molto interessante mi auguro che prima o poi esca un'edizione economica un pochettino per tutti quanti perché effettivamente a 18 euro il volume per quanto esca un volume l'anno può essere un pochettino tanto però sono piuttosto contento di questo mio personale recupero c'è anche da dire che a livello di extra non è che ci sia troppissimo quindi l'edizione economica mi sarebbe andata più che bene come è andato il mese di maggio a livello di letture ed acquisti a livello di letture considerando tutti quanti i topolini come faccio sempre al solito sono 44 i volumi letti una buona media considerando che ho avuto dei giorni dove non sono andato a lavoro in treno quindi sono andato in macchina quindi quelli sono stati i giorni nel quale non ho letto quanto avrei potuto e voluto mettiamola così e quindi ok 44 ho tenuto un'ottima media un'ottima media mentre invece a livello di acquisti ho acquistato 45 i volumi considerando anche i volumi in digitale diciamo che questo è il secondo mese consecutivo dove acquisto più di quello che leggo quindi male per quanto il divario sia minimo parliamo di un volume in questo caso nello specifico c'è anche da dire che buona parte dei volumi che ho acquistato 9 volumi dei 45 quindi comunque una parte importante sono recuperi di serie che avrei magari fatto pian pianino nel tempo ma che ho recuperato perché ho trovato un prezzo molto molto vantaggioso quindi c'è da fare anche questo tipo di ragionamento quindi bene così poteva andare meglio sì ma diciamo che ho già recuperato delle cose che quindi non dovrò comprare più avanti nel corso del tempo anche se dovrò scegliere quando leggerle fondamentalmente e niente un mese che è andato un filino negativo neanche troppo fortunatamente c'ho già diverse ah e consideriamo poi che come ho detto nel video un paio di volumi li ho acquistati il giovedì perché non sono riuscito ad andare prima in fumetteria e venerdì non ho avuto modo di leggere quindi anche lì non li avessi acquistati sarebbero stati 43 volumi acquistati contro i 44 letti sarei stato in vantaggio di uno però vabbè non parliamo di cose che non esistono fondamentalmente e niente quindi mese positivo a livello di acquisti ma che a livello di letture poteva andare un filino meglio ma comunque è stato più che soddisfacente giugno sarà un mese secondo me un po' strano all'inizio del mese mi vedrete un po' meno attivo su instagram con le letture da treno perché avrò un po' di impegni un po' di cose da fare quindi non sarò costantissimo quindi avrò anche qualche lettura in meno quindi partirò già con uno svantaggio però poi magari riuscirà ad andare tutto liscio vedremo come andranno molti dei dei volumi che ho letto gli devo ancora fare il video sopra dedicato che uscirà sul canale e ho già avuto modo passato di dirvelo ho scelto per quest'anno di cercare di mantenermi più sul pezzo quindi quello che esce nel corso del mese cerco di farvelo uscire nel corso del mese ciò che sto leggendo come recupero come arretrato magari lo leggo lo acquisto ci faccio il video sopra dedicato ma uscirà prossimamente in particolare in questo caso il video sulle tartarughe ninja e su drifting nightcafé sicuramente li girerò non li ho ancora girati in realtà li girerò e farò i video e tutto quanto ma verranno pubblicati in un secondo momento più avanti sicuramente non a giugno perché giugno esce parecchia roba e tra l'altro tutta concentrata all'inizio del mese quando ho anche meno tempo per leggere perfetto quando tutte le cose si fanno a incastrare sono veramente perfette però questo è quanto ho fatto un video dedicato al Cortona Comics la fiera per l'appunto che si è svolta a Cortona lì vi mostrano nel dettaglio diverse e diversi sketch che mi sono fatto fare quindi se volete andare a recuperarlo recuperatelo qui non vi ho mostrato gli sketch avrebbe avuto poco senso a mio parere però nel caso andate a recuperare il video ve lo lascio se mi ricordo anche nelle schede qua su in alto da qualche parte qui da Francesco della soffitta di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale ciao